Professoressa Valenzano, qual è lo stato di salute dei beni culturali e non solo, insomma, di Padova? Abbiamo un patrimonio artistico importantissimo, una cartina di torno a sole appunto per il turismo, ma ricordiamoci che siamo sempre italiani. Allora, abbiamo delle situazioni molto positive, di eccellenza, come i nostri musei civici, con la Cappella degli Scrodvegni, il Palazzo della Regione, che è stato oggetto di un grande restauro prolungato nel tempo e che l'ha restituito alla comunità, non soltanto cittadina, ma anche con visitatori di tutto il mondo. Poi, appunto, siamo in Italia, abbiamo altri pezzi invece che, ahimè, hanno bisogno di interventi notevoli o che comunque su cui si è investito poco e questo ha provocato delle grandi lentezze nel realizzare le loro cose. Ecco, ricordo anche proprio che in Ateneo abbiamo questo museo della storia naturale che viene realizzato, diciamo, a lotti. È un lavoro che dura da più di dieci anni, adesso partono i lavori per un ulteriore lotto, ma rimane ancora molto e molto da fare. Così abbiamo un patrimonio diffuso all'interno dell'Ateneo, molto anche di tipo medico, straordinario, che però soltanto in parte viene mostrato dal Musme e altro invece che ancora è in depositi non accessibili, che avrebbe bisogno di restauro e qui vanno fatte delle scelte, anche coraggiose, ma anche con una volontà di investimento notevole. Ecco, all'interno della città ci sono altri casi anche di pitture di grande pregio che avrebbero necessità di restauri, di cui anche si è chiesto il restauro da tempo, ma che ancora non è stato sostenuto. Professoressa, gli eventi sono l'unica chiave appunto di successo per valorizzare il nostro patrimonio o c'è qualche altra possibilità? Allora, per come ahimè ormai ragiona il mercato dell'arte, per come ragiona anche l'attenzione, la sensibilità, gli eventi sono un momento essenziale. Ecco, l'importante secondo me è che gli eventi non vengano lasciati isolati a se stessi, momento di catalizzazione anche di forze, anche di contributi economici, ma che siano come il punto di aggancio di una valutazione delle realtà che ci sono all'interno del territorio. Da questo punto di vista anche la riforma che è stata fatta dei beni culturali a me provoca qualche preoccupazione, perché in passato alcune mostre, essendo collegati musei con le soprintendenze del territorio, avevano proprio come finalità il restauro e la conoscenza delle opere disseminate sul territorio. Questo stacco tra grandi musei e territorio lasciato alle soprintendenze è un rischio che tutte le risorse economiche vadano per le grandi mostre dei grandi musei e che al territorio invece vadano solo briciole con grave depauperimento del nostro patrimonio che è già in grande crisi e in difficoltà, molto malato.